Si riprende dopo la pausa per medicare Landino che ha perso una gamba Stiamo scherzando naturalmente che si è fatto male ad una gamba durante questo periodo di pausa Pallo è di Drago Dandino, eroica ma niente, ma non importa In queste condizioni non si può giocare nel campo, nel senso incredibile Si sbagliano cose che... Noi stiamo sbagliando di più Ma non è che siamo, è il campo, mica No, no, te lascia il campo No, siete voi Tutti quanti allora Anche non, perché tutti sono le stramme Si, Davide Sto correndo il doppio dietro Come si fa? Corriamo il doppio dietro Ma che c'entra io non ti parlo di questa cosa, per questo ti ho ragione Io ti parlo nel senso di manciarti quella davanti alla porta Ah, questo è un altro discorso Quello è vero, perché stavo giocando l'ultimo attacco fondamentalmente Sbagliassi 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 Robby, indietreggio, non c'è nessuno che riesca a farci avanti Sbagliassi 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 Tira Stranamente tirerà avanti Non c'è nessuno che ha fatto Non c'è nessuno che ha fatto Ma che gol ha fatto? Che gol ne ha? Ma poi già è la Manu Ma che ha detto fuori? Il Mono, non è bene Ha infirato l'essere Ma che c'è? Ah, Fiorentina ha preso il G No Fiorentina-Catania Eh, Fiorentina Catania-Filentina, 0-3 Oh 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 Ha fischiato Robby ormai Chi ti la metti? Fischiò Occhio Avete il coraggio pure di lamentarmi? Eh? Avete il coraggio di lamentarmi? Vabbè non è stata totale Non è stata Una partita è nettamente Ma che c'entra gli scusa la partita? Matti ce ne hai 3 dietro 2 la punizione, quelli sbagliano Quello non è portiere Il gol di Favet Questo si aveva preso punish È ufficiale Visto che siamo lamentati Eh? Che siete scarsi nella punizione? Viglio la punish che si chiama dei video Dio Non si offende, io ve lo dico 3-2 Il mezzo e il mezzo Fiii attento Una volta che l'aveva messa Non passa la palla Guardalo, guardalo Guardalo Tu vuoi superare in classifica che hanno niente riusc Kelly Era un nuovo è un allenatore, guarda guarda Emanuele è un allenatore mi fa streppi il piede abbiamo visto i suoi ragazzi da dietro niente su altri eh quindicesimo quindici Roby non potete cambiare atti è tuo vedi Roby quando vuoi dopo un minuto no no resta resta il mio cosa sta succedendo io lo segnalo così ammunisce il drago e così è diffidato e così è diffidato per aver dato un pallonolo ma se non lo puoi vediamo eh come vai 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 guarda l'uomo Sì, guarda, guarda! Sì, guarda! Ma tu la devi giocare, no? Non c'è un po' di più! Mi do le santo! Anzo o manzo? Occhio, occhio! Guarda, guarda! Uh, sono buone, oh! Guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! 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 Guardaine, guarda! Guarda piedi! Guarda accadere! Guarda! Guarda piedi! Beh, bravo! Pia allora! Bravo! Guarda! Buon Antonio. Andiamoci. Occhio! Ando, occhio dietro, ando. Tu, tu puoi, non sei più indietro. Quello è là sotto. C'è un cane là, oh. In questa cosa, nella seconda finestra a sinistra c'è un cane, c'è un rottoval. Solo? Sì. Ehi, bravo. Affarciò la testa, no? Vai, non parli, prego. Non va bene. Bravo! Ehi, go! Ehi, cazzo là! Ehi, cazzo là! Ehi, cazzo là! Ehi, cazzo là! Gioca, gioca! 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 Ehi, cazzo là! 1 al 1 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti